Te le do un roti. Carla, stavo facendo una riflessione per il tuo futuro. Tu cosa vorresti fare? L'astronauta? Come vai a Cacascova? No. Hai qualche idea già? No. Vuoi iscriverti alla scuola politecnica? No. Vuoi andare alla normale di Brindisi? No. Una volta volevi fare la cioccolataia come Francesca Truffaut. Adesso? No. Neppure come Francesca Carmela Truffaut? No. Non vuoi fare niente allora? No. Ma un'idea io ce l'avrei per te. Quale? Potresti fare la femen. Sai chi sono le femen? No. Sono quelle ragazze a seno nudo che vanno a Piazza San Piero e dicono Pop is cornut. Pop is cornut. Tra l'altro si dice che il Pop è un cornuto. Per esempio. Oppure Putin is fang. Putin is fang. Putin è un fango. Ti convince come ipotesi? No. Astronauta come vai a cacascova? No. Francesca Carmela Truffaut? No. Femen? No. E allora? Non lo so. Impiegata al Sunia? No. Sindacato? CGL? Ti danno un cardigan con i bottoni di osso di cane? No. Stai lì? No. Giornalista di Repubblica? No. Femen giornalista di Repubblica? Ti danno un computer e tu scrivi a seno nudo? No. Zero allora? No. Neanche zero? Va benissimo. Deciderò io. Adesso chiamo il dottor quello che fa il collocamento delle femmine e glielo dico. Ho detto no. Ma come hai detto no? Ti danno pure la coroncina con le rose. Cosa devi dire? Mi ripeto. Cosa devi dire? Bo. Te le durruti. Speranze vane. Continuate a fare figli. Continuate. Buongiorno. Grazie.